Sia lodato Gesù Cristo, vorrei meditare con voi sulla liturgia di oggi, siamo nella festa di Santo Maso Apostolo. Ecco cari fratelli, al centro della liturgia c'è la Trinità che vuole deificarci, che vuole quindi donarci la fede più perfetta. Vedete, la Trinità non ha fede, Dio non ha fede, perché Dio vede perfettamente, Cristo non aveva e non ha fede, perché Cristo vedeva, aveva la visione beata nella parte più alta della sua mente. Dio vuole deificarci, Dio vuole portarci a vedere in paradiso, quindi vuole donarci di partecipare in una maniera più perfetta alla sua visione, ma per arrivare alla visione dobbiamo camminare nella fede e Dio ci vuole donare la fede. Cari fratelli, rendiamoci conto che la fede è di ciò che non si vede. Se io vedo qualche cosa, quella non è fede, se io ho davanti per esempio questo libro, non posso questo libro per esempio, io non è che dico io credo che esiste questo libro, perché ce l'ho davanti. Quindi la fede c'è dove non c'è la visione. Attenzione bene, la fede riguarda le cose che non si vedono. Andiamocene conto. Bene, quindi la Trinità ci vuole donare la fede. La Trinità ci vuole trasformare in Cristo. E il Vangelo di oggi è molto interessante, ecco, molto interessante da approfondire in questa linea. Ripeto, al centro del Vangelo di oggi c'è la Trinità e nella Trinità c'è Cristo. E appunto la Trinità in Cristo ci vuole portare alla fede. L'Eucaristia, cari fratelli, è proprio in maniera particolare questa azione di Cristo, azione divina, con la quale Dio ci vuole donare lo Spirito Santo, ci vuole donare la fede. e in particolare ci vuole trasformare in Cristo. Perché? Perché noi, ecco, ci vuole trasformare in Cristo, ci vuole far partecipare a Cristo. Perché noi abbiamo una fede invincibile e possiamo aiutare gli altri a credere. Questo è l'insegnamento fondamentale di questo Vangelo. Attenzione bene, la Trinità ci vuole trasformare in Cristo perché attraverso di noi gli uomini tornino a credere. Questo è importantissimo. La Trinità ci vuole rendere strumenti di Dio per la conversione degli uomini a Cristo. Questo è fondamentale. Attenzione bene. E vedete, in quelle parole di Cristo nel Vangelo di oggi, è il Vangelo dell'incontro di Cristo con Tommaso. Dopo la risurrezione di Cristo, Cristo incontra Tommaso, Tommaso da incredulo diventa credente. Quelle parole di Cristo a Tommaso, non essere incredulo ma diventa credente, credente. Possiamo tradurle in questo modo. Ecco, queste parole il Signore le rivolge a tutti. Dio chiama tutti alla fede e si vuole servire di noi proprio di portare le anime alla fede. E queste parole Dio ce le dice anche a noi. Non essere più incredulo se sei ancora incredulo, ma diventa credente, diventa pienamente credente. Vedete, noi in italiano abbiamo la traduzione non essere incredulo ma credente. ma come diceva il famoso esegeta della poterie, in quel verbo usato da Cristo e appunto presentato nel Vangelo in maniera, ecco, più precisamente presentato dall'Evangelista nel Vangelo, quindi quel verbo usato da Cristo, bene, quel verbo ha un significato, cioè è un verbo che indica un dinamismo, cioè Gesù incontrando il, incontrando Sant'Omaso con quelle parole, non essere più incredulo ma diventa credente, lo chiama a credere, quindi lo chiama a fare questo passaggio. Quindi dobbiamo renderci conto di questa dimensione della fede, come un certo modo un percorso. dobbiamo in tanti casi, no? fare proprio un percorso già per raggiungere la fede. Dobbiamo disporci al Signore fare un percorso come è stato per tanti convertiti, fare un percorso per arrivare alla fede ma anche un percorso per crescere la fede nella fede, vedete, si può crescere, si può diminuire la fede si può acquisire, si può perdere si può accogliere, si può rigettare in certo modo e vedete interessante il fatto che appunto anche di fronte a certi segni noi possiamo non credere, cioè possiamo vedere e non credere il Signore dice appunto a Tommaso adesso mi hai visto risorto arriva a credere e qui appunto c'è un discorso da fare anche sui segni e la fede perché vedete, se noi leggiamo il Vangelo in tanti passi vediamo proprio come dai miracoli si giunge alla fede delle persone lo vediamo con grande chiarezza ma perciò Gesù ha compiuto tanti miracoli proprio per portare le anime alla fede Gesù ha compiuto tanti segni lo possiamo leggere chiaramente proprio nel Vangelo di Giovanni dopo che Gesù aveva compiuto il grande miracolo della resurrezione dopo un po' leggiamo che i nemici di Cristo dicono chiaramente quest'uomo fa molti segni e arrivano poi alla decisione di ucciderlo quindi cari fratelli l'importanza dei segni per la fede normalmente dai segni si arriva la fede andiamocene conto di questo prendiamocene conto e d'altra parte i segni ce li dona Dio i segni ce li dona Dio ci conosce molto bene quindi noi dobbiamo ecco accogliere i segni che Dio ci dona per credere cari fratelli dobbiamo accogliere i segni che Dio ci dona per chiedere dobbiamo aprire il cuore allo Spirito Santo per appunto credere la fede la viviamo sotto l'azione dello Spirito Santo è lo Spirito Santo che ci porta a credere cari fratelli e poi dobbiamo proprio in questa sapienza divina dobbiamo esaminare le famose parole che Gesù ha rivolto a Tommaso dopo che Tommaso ha fatto il famoso atto di fede mio Signore mio Dio Gesù che cosa dice perché mi hai visto hai creduto beati quelli che pur non avendo visto hanno creduto che cosa vuol dire qua cari fratelli allora vedete il verbo che usa qui Gesù in realtà ha due significati in certo modo da una parte significa avere certezza da un'altra parte significa proprio credere no? ecco allora quando Gesù dice a Tommaso perché mi hai veduto hai creduto qui vedete che in maniera particolare emerge questo questo significato perché mi hai visto adesso sei certo che io sono risorto da notare che San Tommaso aveva visto tanti miracoli di Cristo eh da notare che San Tommaso aveva sentito Gesù che diceva che lui sarebbe risorto il terzo giorno e nonostante questo aveva perso la fede aveva creduto ecco evidentemente nella sua vita poi con la passione di Cristo sicuramente aveva perso la fede e dopo la dopo la risurrezione di Cristo dice quelle parole se io non vedo non tocco non credo allora vedete Gesù ecco in certo modo riprende le parole di 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 Tommaso riprende le parole di Tommaso ecco proprio particolarmente insistendo direi sull'aspetto della eh avere certezza cioè Gesù dice perché mi hai visto tu ora sei certo della mia resurrezione perché mi hai visto ti sei persuaso che io appunto veramente sono risorto e aggiunge beati quelli che pur non avendo visto hanno creduto a quello che io dicevo e appunto senza vedere senza vedermi risorto hanno creduto che io sarei risorto questa sfumatura è molto diciamo è molto presente in questo testo Gesù sta dicendo appunto qui in maniera particolare questo perché mi hai visto ti sei persuaso che io sono risorto beati quelli che siano persuasi già quando io lo dicevo e siano persuasi per la vera fede d'altra parte questo dire appunto di Gesù perché mi hai visto e creduto ecco in questo credere ecco come abbiamo detto oltre a questa in questo verbo che noi traduciamo con credere ecco oltre a questa sfumatura di certezza perché il verbo greco utilizzato appunto indica proprio questa certezza ecco oltre a questa dimensione di certezza dobbiamo vedere in questo verbo dobbiamo vedere proprio la fede tommaso aveva creduto l'incontro con cristo lo aveva portato a credere questo incontro con cristo lo aveva portato a credere ma prima non aveva creduto e gesù proprio dicendo quelle parole beati quelli che pur non avendo visto crederanno vuole dire questo vuole sottolineare questo beati quelli che non hanno fatto come te beati quelli che hanno creduto chi sono questi che hanno creduto cari fratelli pur non avendo visto sono qui gesù appunto con queste parole mette in evidenza mette in evidenza la virtù di coloro che hanno creduto e in particolare di maria santissima che hanno creduto in lui hanno creduto appunto che lui era che lui è figlio di Dio hanno creduto nella sua resurrezione beati quelli che hanno creduto senza aver visto che cosa vuol dire qui Gesù cari fratelli vuol dire in fondo che la fede in realtà la vera fede è appunto di ciò che non si vede e vedete anche Tommaso nella sua fede mostra di credere in quello che non vede perché vede Gesù risorto e crede che lui è Dio ed è il Signore la fede è di quello che non si vede attenzione bene quindi questo testo dobbiamo guardarlo con molta attenzione con molta attenzione significa molte cose qui Gesù ci sta dando molti insegnamenti con poche parole più approfondiamo e più troviamo cari fratelli quindi Gesù ci sta dicendo la fede è una fede che appunto riguarda cose che non si vedono beati quelli ecco in particolare ecco che pur non avendo visto hanno creduto e questo questa parola se riguarda in particolare quelli che appunto hanno creduto alla parola del Signore hanno creduto a quello che lui diceva pur non vedendo direttamente quello di cui Gesù parlava ecco qui parlando di queste persone Gesù parla in fondo anche di noi qui Gesù ci dà come vi ho accennato ci dà l'esempio di Maria beata Maria che ha creduto senza aver visto ha creduto alla resurrezione di Cristo senza aver visto ha creduto alla Santissima Trinità senza aver visto ha creduto alla a tutto tutto quello che Gesù diceva senza aver visto ha creduto ha avuto fede una fede altissima quella di Maria ma il Signore ci chiama a questa beatitudine cioè il Signore ci vuole donare questa beatitudine per la quale crediamo crediamo a quello che il Signore ci dice anche se non lo vediamo ancora noi dobbiamo credere in Cristo risorto anche se non lo vediamo in questo vedete sta in particolare il nostro merito il Signore ci vuole donare proprio di credere senza vedere credere nel risorto senza vedere Sant'Omaso ha visto il risorto noi invece vedete siamo chiamati proprio e il Signore ci aiuta a credere senza vedere in queste parole cari fratelli vediamo anche la preziosità della nostra condizione perché appunto è evidentemente particolarmente meritorio il fatto di credere credere particolare ecco nella risurrezione di Cristo senza vedere vedete il Signore ci vuole donare una grande fede Dio vuole venire in noi vuole entrare in noi ci vuole donare la sua sapienza e ci vuole donare grande fede cari fratelli Dio vuole venire noi ci vuole appunto ci vuole donare sicurezza certezza assoluta sulle verità che lui ci ha insegnato Dio ci vuole donare grande fede ma non soltanto ci vuole donare grande fede Dio ci vuole rendere Cristo e vedete che in questo Vangelo noi dobbiamo renderci conto che non dobbiamo metterci soltanto dalla parte appunto di di Tommaso riguardo la fede riguardo e se quindi tenerci in questa parte dobbiamo come già ho detto prima dobbiamo metterci anche dall'altra parte e in maniera particolare dobbiamo metterci dall'altra parte cioè il Signore ci vuole rendere Cristo la Trinità vuole agire attraverso di noi perché attraverso di noi possa portare tante persone alla fede questo è un qualche cosa che tante volte sfugge nei commenti o può sfuggire nei commenti nelle riflessioni che facciamo su questo Vangelo ma la realtà è questa la Trinità vuole agire in noi la Trinità vuole renderci altri Cristo Cristo aveva la visione ma a noi la Trinità ci vuole donare grande fede una fede invincibile ci vuole unire a Cristo ci vuole far partecipare a Cristo perché appunto cioè vuole far sì che Cristo venga in noi viva in noi vuole far sì che la Trinità viva in noi in modo tale che come Cristo vedete ha riportato Tommaso alla fede anche attraverso di noi la Trinità possa riportare tante persone alla fede che cosa meravigliosa cari fratelli vedete che cosa bella come questo testo del Vangelo contiene delle verità che se uno segue una lettura un approfondimento segue una una meditazione un po' diciamo non molto approfondita è chiaro che queste cose non le vede invece andando in profondità si scopre proprio come come la fede come la parola di Dio rovescia completamente il nostro modo umano di pensare quindi la Trinità ci vuole rendere altri Cristo la Trinità ci vuole donare questa grande fede la Trinità ci vuole donare di credere anche se non vediamo la Trinità sostiene la nostra fede e ci vuole portare poi un giorno a vedere quello che noi oggi crediamo bene quindi ringraziamo il Signore per questi insegnamenti che ci dona e apriamogli il cuore perché questa grande fede possa proprio riempire i nostri cuori e vedete che in questi tempi è più che mai importante questo discorso perché perché in questi tempi di grande incredulità come facciamo noi per portare per rimanere forti nella fede e per portare gli altri alla fede come facciamo cari fratelli ecco attraverso i sacramenti in maniera particolare Cristo viene in noi attraverso l'Eucaristia noi incontriamo in maniera potentissima Cristo in certo modo come lo ha incontrato San Tommaso e ancora di più perché perché la nostra fede diventi forte perché appunto Cristo venga a vivere noi ci doni una fede invincibile ci doni una fede convinta e convincente perché Cristo operi attraverso di noi anche segni miracoli prodigi per la conversione delle persone vedete cari fratelli che cosa bella quindi questo Vangelo è un Vangelo che illumina in maniera particolare noi oggi ci troviamo in una società piena di increduli che cosa dobbiamo fare cari fratelli ecco quel Vangelo di oggi ce lo dice con chiarezza ci dice che la Trinità ci vuole donare fede la Trinità ci vuole rendere strumenti appunto di Dio per la conversione del mondo la Trinità ci vuole donare fede la Trinità ci vuole aiutare a portare gli altri alla fede e vedete che abbiamo parlato anche dell'importanza dei segni il Signore ha fatto tanti segni dobbiamo conoscere i segni che il Signore ha fatto dobbiamo parlare al mondo dei segni che Dio ha fatto dobbiamo aprire il nostro cuore allo Spirito Santo perché lo Spirito Santo compie segni anche attraverso di noi perché gli uomini credano e voglio appunto sottolineare anche proprio questo aspetto cioè dobbiamo conoscere i segni che Gesù ha compiuto negli scritti biblici ma anche dobbiamo conoscere i segni che il Signore ha compiuto per la conversione degli uomini ecco nei nostri tempi nella storia della Chiesa il Signore continua a compiere miracoli per attirare le anime alla fede e vedete che l'Eucaristia è sommo miracolo per attirare le anime alla fede anche cari fratelli rendiamocene conto quindi dobbiamo conoscere queste cose perché per la nostra più grande convinzione di fede per avere una fede sempre più convincente per portare gli altri alla fede cari fratelli per questo la Chiesa ecco tiene per questo la Chiesa vedete parla dei miracoli riconosce i miracoli perché appunto sono una potente testimonianza di Dio per la conversione degli uomini ascoltavo tempo fa quello che diceva una delle miracolate di Lourdes spiegava che attraverso la sua guarigione attraverso la sua testimonianza tante persone si sono convertite vedete cari fratelli dobbiamo renderci conto di questo dobbiamo conoscere queste cose dobbiamo conoscere i miracoli del Signore dobbiamo chiedere l'ospito santo anche per parlare dei miracoli di Dio alla gente perché la gente si possa convertire anche attraverso questi insegnamenti vedete che il Vangelo ci riporta tanti miracoli ci riporta il racconto dei miracoli perché perché attraverso quei racconti passa lo Spirito Santo per convertire le anime e diamocene conto ecco perché dobbiamo conoscere queste cose dobbiamo conoscere i miracoli del Vangelo dobbiamo conoscere i miracoli della Bibbia ma anche i miracoli dei nostri tempi perché il Signore continua a compiere i miracoli cari fratelli e dobbiamo conoscere queste cose ripeto perché ci convinciamo ancora sempre meglio noi e siamo sempre più convincenti nella nostra testimonianza per la conversione del mondo cari fratelli bene ringraziamo il Signore gloria al Padre al Figlio allo Spirito Santo come era in principio ora e sempre nei secoli dei secoli Amen nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen e voglio aggiungere anche un'altra cosa il demonio vedete che evidentemente non vuole che noi conosciamo questi segni miracoli che il Signore fa non vuole che ne parliamo e soprattutto non vuole che lo Spirito Santo parli attraverso di noi di queste cose e non vuole che lo Spirito Santo compia segni e prodigi attraverso di noi cari fratelli andiamocene conto il demonio non vuole che la gente creda quindi non vuole appunto che i segni che il Signore compie siano divulgati non le vuole queste cose cari fratelli il demonio lavora in maniera particolare in questi tempi proprio per tenere lontane le anime dalla fede per allontanare le anime dalla fede per appunto cancellare la fede dal cuore degli uomini il demonio lavora per tenere lontane le persone dai miracoli che il Signore compie il demonio lavora perché i miracoli che il Signore compie rimangano nascosti e non servono per la conversione in tante persone questa è la realtà cari fratelli ecco perché noi ecco dobbiamo conoscere questi miracoli dobbiamo conoscere questi segni che il Signore ha fatto dobbiamo appunto aprirci allo Spirito Santo perché lo Spirito Santo compie segni prodigi miracoli anche attraverso di noi vedete che gli apostoli noi negli atti degli apostoli nei primi capitoli troviamo proprio una preghiera degli apostoli nella quale chiedono appunto che il Signore intervenga con segni prodigi miracoli cari fratelli rendiamocene conto rendiamocene conto i miracoli sono un forte richiamo delle persone alla fede rendiamocene conto di questo bene allora ringraziamo il Signore per questo come abbiamo già fatto e adesso voglio pregare la Madonna e San Michele perché ci aiutino a crescere nella fede ma anche a stritolare è Satana che vuole appunto toglierci la fede e vuole impedirci anche di non testimoniare la fede e vuole impedirci di aiutare tante persone a credere vuole impedire che tante persone credano rendiamocene conto di questo cari fratelli ecco allora preghiamo la Madonna e San Michele come detto Ave Maria piena di grazie al Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte ame San Michele Arcangelo difendici nel combattimento si tu il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del diavolo che Dio eserciti il suo dominio su di lui te ne preghiamo supplichevoli e tu principe della milizia celeste per la potenza divina ricaccia nell'inferno satana e gli altri spiriti maligni che vagano nel mondo per perdere le anime amen che vagano nel mondo vedete cari fratelli il demonio i demoni vagano nel mondo per portare le anime alla perdizione la salvezza passa attraverso la fede la perdizione cari fratelli passa tante volte proprio attraverso la incredulità ti o la l'an la 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 l'an